Gentili telespettatori, buonasera, come sempre grazie per essere sempre vicino a noi ed è una cortesia che molto volentieri accettiamo da parte nostra e di questo vi ringraziamo. Iniziamo con una lotta continua, particolarmente nel periodo estivo, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. È un continuo lavorio che le forze dell'ordine debbono portare avanti in mille modi e con mille sistemi. Ma questa volta fermata una nigeriana che su un autobus aveva 7 kg di droga. Sentiamo la notizia. Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Catania che ha sequestrato 7 kg di marijuana, arrestando una donna nigeriana. La straniera era passeggera di un autobus di linea proveniente da Roma ed è stata arrestata dai militari delle Fiamme Gialle perché all'interno del suo bagaglio è stato rinvenuto in una quantitativa di 7 kg di marijuana. Il militare del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Catania in stretta collaborazione con il Servizio Centrale di Investigazione della Criminità Organizzata e con l'ausilio di unità cinofile del gruppo di Catania, all'arrivo dell'autobus alla stazione Etnea ha controllato i bagagli dei passeggeri. Nel corso dell'ispezione i cani antidroga hanno subito segnalato il bagaglio appartenente alla donna che non ha mancato di mostrare segni di nervosismo. All'apertura del trolley all'interno i finanzieri hanno rinvenuto due pacchietti e tre voluminosi sacchi neri al cui interno era sigillato sotto vuoto l'intero carico di sostanza stupefacente. Peraltro l'interno della valigia e la parte esterna dei sacchi erano stati accuratamente cosparsi di borotalco nel tentativo di annullare il rifiuto dei cani antidroga. La marijuana sequestrata pare fosse destinata al mercato etneo e nella vendita al dettaglio avrebbe fruttato oltre 40.000 euro. La donna quindi è stata arrestata e rinchiusa nella casa circondariale di Piazza Lanza. E non solo operazioni di questo genere ma anche il fai-da-te della droga che si sta diffondendo sempre più. Ultimamente i carabinieri della stazione di Sant'Agata Libattiati hanno bloccato un 37enne che a casa sua aveva una coltivazione in piena regola, la vedete nella foto, con altre situazioni particolari. Pensate, un chilo e mezzo di marijuana, 150 grammi di hashish, 20 piantini di marijuana con un'altezza media di 60 centimetri. Poi nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche il solito bilancino di precisione, 225 euro, che naturalmente sono stati così bloccati perché ritenuti fonte dello spaccio che era stato effettuato. Cambiamo decisamente argomento ma parliamo di un argomento molto pregnante, molto importante per la sua risoluzione. Ci riferiamo alla spazzatura. Come sapete in tutta l'Italia, ma la Sicilia in particolare, ha questo grossissimo problema che da diverso tempo a questa parte non si riesce in nessun modo a risolvere. Cominciamo col primo servizio e andiamo a Catania. La spazzatura, pur essendo solo, la pago come se fosse una famiglia numerosa. Ho fatto la domanda, a ora di pagare paghiamo, ma il servizio non lo fa nessuno. E io pago, diceva il grande Totò. Lo ricordano tanto le parole di questo contribuente catanese che, come tanti altri cittadini, lamenta ai nostri microfoni una delle emergenze che non possono più attendere una pronta soluzione a Catania. Rifiuti in strada con conseguenti ripercussioni, vista la fallumidità di questi giorni, sulla salute e l'igiene. Siamo a due passi da piazza Aldomoro-Vulcania, in via Fusco, non distanti dalla centrale di Etnea. Qui, come in tutte le zone coinvolte dalla differenziata porta a porta e dunque private, nei vecchi cassonetti, si paga il prezzo della disorganizzazione ed inefficienza. Non è mai partita bene questa differenziata, evidentemente? No, all'inizio andava bene. Benino. Non bene, benino. Comunque, ora è da un bel poco, prima delle elezioni, che già cominciava a vedere che le cose non andavano come dovevano andare. Umido, organico, di tutto. Poi la differenziata praticamente non la fa nessuno perché anche gli stessi spazzini la prendono, arrivano con un camion e mettono tutto, tutto quello che trovano sui marciapiedri lo versano dentro, sopra. Ma da quanto tempo lei nota questa situazione qui passando? Passando, un mese, 15 giorni, un mese. Questo esercente ci spiega che ha dovuto esporre un cartello per evitare la discarica davanti al negozio e magari di fare indignare e scappare via i clienti. Purtroppo se la raccogliessero con regolarità il problema nemmeno si porrebbe, ma dal momento che spesso rimane comunque accumulato, ora col caldo diventa anche una questione di igiene e quindi abbiamo dovuto scrivere questo. Questi sono cumuli di due giorni ma la norma è anche peggio. La cadenza assolutamente arbitraria con cui i mezzi di raccolta fanno visita alla zona, ma tanto ogni tre, quattro giorni, crea seri problemi ai residenti e vanifica gli sforzi delle famiglie nella separazione dei rifiuti. Ma lì mattina ci ritroviamo con le strade in base alla spazzatura ed è effettivamente indecoroso perché poi con il caldo, non so se mi spiego, specialmente l'umido. I clienti si lamentano quando capita qualche spot? I clienti, gli abitanti, i nuovi commercianti, è una situazione che ormai va avanti da un bel po'. Segui a fare la gincana nei marciapiedi è diventato vero? Poi si prova a chiamare il comune, i vigili, non risponde mai nessuno. E però non finiremo mai di parlare di collaborazione da parte dei cittadini, principalmente per quanto riguarda il deposito della spazzatura, ovvero sia bisogna depositarla la sera precedente, la raccolta dell'indomani mattina. Altrimenti poi se si deposita così, senza un ordine, avvengono anche situazioni di questo genere. Fermo restando, quelle che sono le responsabilità dei comuni. Ma andiamo adesso ad Acireale per lo stesso motivo. C'è in atto una grossa problematica per quanto riguarda quale ditta dovrebbe assumere l'incarico per la raccolta. Vediamo un pochino. E di qualche giorno fa la notizia dell'annullamento dell'appalto settennale da 50 milioni per il servizio di raccolta rifiuti ad Acireale. Secondo i giudici sarebbe risultata in idonea la documentazione della Tecra che aveva vinto l'appalto al centro del contenzioso la determina dirigenziale del 20 luglio 2016 con cui il comune di Acireale aveva giudicato in maniera definitiva il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati ne scadruì il ricorso dell'azienda Senesi che svolgeva precedentemente tale servizio. L'appalto era stato giudicato con le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa e prevedeva il rispetto di una serie di requisiti che secondo i legali della Senesi non sarebbero stati osservati. Questo è il commento del neo assessore alla Ramo del comune di Acireale Daniele Larosa Per noi non cambia nulla in questo momento il contratto rimane valido fino a che non verrà espedita dall'Urega la nuova gara il giudice, il magistrato fortunatamente ha riconosciuto che è un servizio prioritario quindi ha ritenuto opportuno non sospendere questo servizio chiaramente le ditte che hanno partecipato la volta scorsa saranno le tre ditte che potranno presentare l'offerta nuovamente e quindi speriamo in tempi brevi ragionevoli di poter nuovamente avere o la Tegra o una delle altre due aziende che hanno partecipato al precedente bando di gara. E dalla raccolta dei rifiuti ad un'altra delle realtà contro la quale gli inquirenti si trovano in continuazione a lottare ci riferiamo alla prostituzione in questo campo e un po' in avanguardia la città di Ragusa con le forze dell'ordine pensate che nell'arco di una settimana sono state oltre sei le case a luci rossa che sono state chiuse l'ultima vedeva una rotazione quasi settimanale di tantissimi operatori del settore le tariffa andavano da 30 a 50 anche sino a 500 euro l'affitto di casa che veniva fatto per una settimana due settimane al massimo si pagavano 400-500 euro per quanto riguardava l'affitto i proprietari delle case che venivano affittate dicevano e dicono di non saperne niente di quella che era l'attività ma nella realtà la polizia ha la sensazione che questo sia solo un discorso per nascondere quella che è la vera realtà parliamo adesso e andiamo ad Acireale di un convegno che si è tenuto alle terme sulla figura di Pennisi Floristelli il quale è stato l'iniziatore quello che si riferiva a tutto il mondo delle termine alla città di Acireale vediamo il servizio Agostino Pennisi di Floristella fu un nobile imprenditore certamente illuminato fondatore delle termine di Acireale correva l'anno 1873 dall'anno dell'istituzione l'importante polo termale richiamato migliaia di utenti provenienti da tutta Europa una piattaforma del benessere con ricadute su tutta l'economia della città e dell'Internet poi gli anni del declino sino allo sfascio dei giorni nostri noto a tutti con il sistematico quanto inesorabile depauperamento del sito industriale il cui valore è crollato da 35 ad appena 2 milioni di euro un'occasione perduta per Acireale che ha nella politica di ieri e di oggi senza distinzione di colore politico precise e delineate responsabilità il patrimonio immobiliare notizia di queste ore potrebbe essere recuperato dopo le tribolazioni del fallimento e della messa all'asta di due pezzi pregiati per fronteggiare i debiti contratti con unicredit nella realizzazione del Celsior Palace Terme finita all'asta assieme al polifunzionale il fondo Cerberus titolare del credito cresciuto negli anni ha trovato l'accordo con la regione siciliana che ha ottenuto la richiesta del ritiro della procedura di vendita e la possibilità di spalmare il debito in più comoderate previo l'occhiello dell'agenzia delle entrate che sulla vicenda svolge un ruolo non secondario e da cui può dipendere il futuro del sito termale acese al convegno organizzato a Santa Tecla Palace dal FAI Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con la regione siciliana la città di Ecireale il club service enti ed associazioni è emersa forte la volontà di dare una svolta politica alla questione terme e di rilanciarle e si torna a parlare di un bando aperto ad imprenditori nazionali ed internazionali nell'appassionata relazione introduttiva Agostino Pennisi pronipote del fondatore delle terme ha sottolineato la necessità di porre le basi per una riproposta reale del termalismo come volano di sviluppo territoriale io ho colto l'occasione che il FAI mi ha dato di collaborare alla stessura di un programma storico sulla figura di Agostino per allargare l'orizzonte e pregare sia il presidente della regione sia i commissari liquidatori delle terme a spiegare lo stato dell'arte all'uditorio cittadino che oggi è presente in quantità e in qualità immensa devo dire che il lavoro che abbiamo fatto in quest'anno silenzioso senza fare grandi proclami è stato un lavoro incredibile i commissari hanno lavorato con grande perizia hanno potuto approvare con la regione ben 4 esercizi fino al 2017 e siamo arrivati a un punto di grande entusiasmo pratica qualificata rappresentata da figure di primo piano che si sono alternate negli interventi programmati ognuno con le proprie competenze tutti i possibilisti nel rilancio delle terme Rino Piscitello membro della segreteria di Caetano Armau vicepresidente della regione chiarisce c'è una notizia molto positiva che è esattamente di ieri che il fondo Cerberus che è il creditore privilegiato del patrimonio immobiliare delle terme ha accettato la richiesta dell'assessorato regionale dell'economia e quindi della regione di chiedere la sospensione della procedura giudiziale di vendita evidentemente per aprire poi la discussione con la regione che sta in questo momento facendo valutare il patrimonio dall'agenzia delle entrate che è obbligatorio per acquistare immobili da parte della regione è una procedura obbligatoria e quindi subito dopo può attivare la procedura diciamo di acquisto o di mutuo a seconda della valutazione che si farà quindi in tempi relativamente brevi per poi passare al bando adesso andiamo a Randazzo una mamma scrive al Papa carissimo Papa Francesco sono una mamma che da 13 anni lotta per screditare una vita dignitosa alla propria figlia colpita da una gravissima patologia la donna si chiama Monica scrivano la sentiremo a partire da lunedì per approfondire l'argomento la bambina non può mangiare perché affetta da una grassostomia per la quale appunto non può né mangiare né bere per bocca e se non fosse curata in altro modo rischierebbe di morire la mamma chiede che il Papa possa in qualche modo dare la possibilità perché la figlia possa ricevere la prima comunione essendo giunta nell'età nella quale normalmente i bambini la ricevono aveva quattro anni fa contattato un sacerdote di una parrocchia di Randazzo il quale era stato molto vago e però siccome la donna deve sistematicamente portare la bambina al gaslini di Genova non ha più potuto avere contatti con questo sacerdote né il sacerdote stesso si è fatto sentire anche se il prete aveva espresso quella che è una delle più profonde difficoltà perché la bambina non può ingoiare non può in nessun modo ricevere cibi per quanto riguarda la bocca quindi è un caso che seguiremo molto volentieri anche perché si pone un grossissimo problema per quanto riguarda appunto quello che è il modus operandi della Chiesa Cattolica in situazioni di questo genere cambiamo ancora una volta decisamente l'argomento d'altra parte la cronaca è così e parleremo di consorsi di bonifica hanno molti problemi per quanto riguarda il loro futuro sentiamo è stato proclamato dalla Flai CGL di Catania lo stato di agitazione dei lavoratori del consorzio di bonifica nel mirino il mancato avvio dell'iter di stabilizzazione dei lavoratori stagionali e il mancato pagamento degli stipendi l'atto successivo allo stato di agitazione sarà la proclamazione dello sciopero dei lavoratori che nel rispetto dei tempi di preavviso potrebbe essere attuato a metà luglio e la risposta spiegano dalla Flai CGL all'idea sbagliata dal governo regionale di non avviare l'iter di stabilizzazione dei lavoratori stagionali e del mancato pagamento delle retribuzioni gli operai sono stati avviati in netto ritardo rispetto alle reali necessità del consorzio e dell'agricoltura con la conseguenza che gli stipendi non vengono pagati a lavoratori fermi ormai da ben sette mesi il governo regionale che si è insediato a fine 2017 prosegue la Flai CGL ha gestito in maniera discutibile settori importanti quali forestazione e consorzi di bonifica avviando in notevole ritardo rispetto alle esigenze di questi comparti i lavoratori stagionali tutto questo ha provocato enormi disagi sia per ciò che attiene la preparazione della campagna rigua sia per quel che riguarda l'antincendio boschivo che andrebbero al contrario programmati per tempo per i consorzi di bonifica la loro governo crocetta licenziò a firma dell'assessore Cracolici una riforma che aveva quantomeno il merito di riordinare il settore chiudella Flai CGL unificando i vecchi nove consorzi in due l'attuale governo era chiamata a dare seguito ad una serie di atti propedeutici all'attuazione della riforma che rispondono principalmente alla questione centrale i debiti ma la regione non è riuscita a intervenire sulla questione da qui la protesta della Flai CGL un'altra piaga della nostra società la pedopornografia e come ben sapete c'è una realtà che vede in don di note la sua associazione Mater con tutti i volontari che vi ruotano attorno una diga a questo dilagare della pedopornografia anche la polizia postale di Catania è in primo piano ed è fra le più specializzate per quanto riguarda le polizie postali italiane pensate che una comunicazione giunta alla polizia postale di Modena e da questa la polizia postale di Catania ha portato alla scoperta di un sito pedopornografico gestito da un 59enne disoccupato sempre di Modena e proprio grazie a tutto il lavoro svolto da don di note alla polizia postale di Catania si è arrivati al tizio che appunto gestiva in vario modo cercando di nascondere quanto più possibile la propria identità per non essere scoperto sapete che quando avviene una situazione di questo genere quando c'è la identità che viene scoperta si va a finire in carcere oltre ad avere quello che è il marchio dell'essere infame per quanto riguarda appunto situazioni di questo genere la cosa più importante che è quella a cui anche teniamo che la polizia postale di Catania è una fra le prime realtà alla lotta contro quanto avviene sia nella pedopornografia sia per quanto riguarda l'uso improprio del web parliamo adesso l'estate è in piena regola il mese di luglio il caldo ce lo sta dicendo parliamo di quello che è una delle voci più importanti per quanto riguarda la economia siciliana il turismo cosa si sta facendo particolarmente a Catania sentiamo il servizio Catania a Giarra e a Cicastello da lunedì nelle tre sedi territoriali della Conf Consumatori sarà attivato lo sportello del turista punto di riferimento per chi va in vacanze e si trova a dover fronteggiare intoppi durante le ferie come voli cancellati ritardi sia per aerei navi che treni o danni subiti al proprio veicolo in autostrade che soltanto lo scorso anno ha registrato un migliaio di richieste di supporto sebbene da una settimana sia in vigore la nuova legge nazionale che offre maggiori tutele il turista gode comunque di strumenti che spesso non conosce e che servono a far valere i propri diritti come spiega Carmelo Calì presidente di Conf Consumatori Sicilia è un desk importantissimo soprattutto in questo periodo non a caso nel periodo di agosto dove durante il quale solitamente tutti vanno in ferie voi rimarrete al servizio del consumatore sì anche perché l'idea originaria che 13 anni fa ci portò a ideare questo sportello resta sempre validissima ancora oggi cioè offrire al consumatore turista un'opportunità nell'immediatezza di un disservizio di un adempimento di avere un consiglio su cosa fare spesso il consumatore non riesce a capire come deve muoversi quindi dargli subito un consiglio può essere utile fermo restando che poi dopo tutte le attività di sportello possono consentirgli di attivare tutto quello necessario per ottenere risarcimenti oggi per fortuna ci sono delle norme che garantiscono tutela rispetto a tutti questi disservizi quindi rispetto a quella che ogni tipo di vacanza che il consumatore sceglie è importante spiegargli quelli che sono i propri diritti tre sedi Catania Giarre a Cicastello ma qualora uno dovesse dimenticare quali sono le sedi nel territorio basta andare al sito www.confconsumatori.it e lì trova tutto sì dal lunedì sul nostro sito nazionale sarà data la notizia dell'attivazione di questo servizio con tutti anche l'indicazione delle sedi degli orari di apertura ma anche delle email e di un telefonino il consiglio uno su tutti che si dà al turista ma il consiglio uno è innanzitutto di prestare la massima attenzione alle giustificazioni che vengono date e non beversi tutte le stupidaggine che vengono propinate per giustificare gli anninatempimenti e andiamo ad A Cicastello come ben sapete ognuno di noi l'esperimento sono gli stalli a pagamento ma sono gli stalli anche per i disabili spessissimo e si trovano delle macchine da parte di tanti maleducati che non capendo che quello stallo particolare ha appunto una funzione particolare ma cosa succede con gli stalli per i disabili nella zona di A Cicastello sentiamo a chi rivolgersi comunite di regolare passi di presenza invalidi sia gli stalli riservati alle persone con handicap erano tutti occupati uno o chissà se più di uno occupati da auto non autorizzate sprovviste di tagliando dunque l'uomo visibilmente contrariato attraverso internet è risalito al numero di telefono del comando della polizia municipale di A Cicastello a cui è chiamato una, due, tre volte senza ricevere però alcuna risposta i vigili a quell'ora infatti hanno già dismesso il servizio con buona pace per la comunità riverasca e i tantissimi visitatori turisti che la frequentano cosa strana perché diciamo non posso riverasco in piena estate i giudici urbani come in giro con la macchina nessuno in giro a controllare vedo arrivare sul lungomare una coppia di aiuti e mi viene risposta che loro non sono autorizzati per il discorso dei posteggi per i disabili e sono rimasti a bocca aperta perché giustamente so che bene o male e loro sono anche addebiti a fare il discorso questo tipo di servizio sì invece lì è stato risposto non è competenza non so se è una ditta privata autorizzata ci sono andata a comune però non mi sembra anche giusto per le persone disabili come moglie ce ne sono a centinaia purtroppo sono state le mie moglie che possono deambulare quindi se abbiamo capito male da un lato i vigili urbani che a quell'ora non avevano più servizio sì ma le 10 e mezza di sera d'estate anche per una questione di ordine pubblico completamente il sindaco Filippo Drago prova a chiarire intanto sono dispiaciuto vorrei suggerire di utilizzare le strisce blu perché finalmente con il nuovo contratto di concessione per un'ora e mezza possono parcheggiare gratuitamente quindi gli stalli io penso al di là di quelli gialli che possono essere stati occupati da altri disabili e comunque sono in una misura abbastanza adeguata possono essere utilizzati proprio per il parcheggio e per il godimento in funzione di questo ragionamento e poi posso assicurare che in inverno l'orario del corpo di polizia municipale che è ridotto a lumicino naturalmente ha un orario di estensione minore rispetto all'estate è l'occasione per poter dire che a partire da questo fine settimana i vigili urbani saranno presenti anche da mezzanotte alle 6 del mattino quindi faranno un orario continuato proprio per assicurare ai tantissimi fruitori del nostro bellissimo territorio una maggiore sicurezza una maggiore assistenza bene e adesso andiamo ad Acireale dove alla biblioteca Zelantea si è tenuto un interessante convegno vediamo Acireale tra realtà e speranza il tema dell'incontro organizzato ieri pomeriggio nel locale della biblioteca Zelantea di Acireale dal presidente Giuseppe Contarino con l'ex commissario straordinario del comune Salvatore Scalia e il sindaco Stefano Ali dal trimestre commissariale sono emerse criticità amministrative di non facile soluzione portate alla luce dall'attenta lettura delle carte dell'ex magistrato e adesso al vaglio della Corte dei Conti realtà difficile la speranza è che si possa uscire presto e bene dal tunnel i conti ballano il futuro finanziario dell'ente non è stato ancora decifrato dalla nuova classe dirigente nella composizione di maggioranza a consigliare tutti i novizi in questione di pubblica amministrazione il presidente dell'Accademia degli Zelanti Contarino da ex bancario non nasconde le preoccupazioni e nel discorso introduttivo ha chiaramente sottolineato la possibilità di un quinquennio di lacrime e sangue per gli accesi C'è il periodo del predissesto amministrativo i cui elementi ho letto che ci stanno tutti questo significa che tu da un giorno all'altro se non hai un progetto di rientro approvato ti puoi trovare in stato del sesto per cinque anni c'è un'apposita commissione che cerca di eliminare i debiti di realizzare i crediti e però aumentano tutte le tasse gli impiegati comunali devono rispettare una certa percentuale uno su 99 una cosa del genere ci sono per la città dei passaggi così dolorosi così infami così dirombenti che Agile Reale mette tra parentesi cinque anni della propria storia il dibattito di città è vero su questione di cassa da cui poter muovere futuri progetti di rilancio o alternativa amara riporli nel cassetto in attesa di tempi migliori le prospettive non sembrano rosee gli esperti chiamati dal sindaco Pentastellato stabiliranno le reali condizioni di salute delle casse comunali argomento su cui l'ex commissario Scalia è sempre stato abbastanza chiaro io mi rifaccio sempre la legge la legge dice i casi in cui il comune deve dichiarare il dissesto se ci si trova in una di queste condizioni cioè se non si è in condizioni di pagare il debito entro una certa tempo entro una certa misura il comune deve andare in dissesto e se chi dovrebbe dichiararlo non lo dichiara né è responsabile quindi sicuramente ci sono dei momenti di grande attenzione da parte del sindaco e del suo staff che è capace ha un suo consulente io ne ho conosciuti molti persone molto capaci lo valuteranno però ripeto non mi chiede valutazioni perché io da questo punto di vista devo solo esporre ciò che le valutazioni e le decisioni competono all'organo politico i conti seguono il loro percorso la politica deve dare tante altre risposte alla città e il sindaco lì ha già tracciato il cammino in questo momento le iniziative che sto intraprendendo sono legate al verde il discorso quindi sulla villa vedere se riusciamo a aprire il parco giochi le terme abbiamo fatto una triangolazione con la SOGIP e con le terme e con l'associazione Costarelli per riuscire ad aprirlo in tempi brevissimi perché dobbiamo operare al più presto stiamo lavorando sul piano della mobilità per immediatamente metterlo in campo perché abbiamo chiesto una proroga di due settimane rispetto al piano esistente io nel mio programma avevo indicato quale sarebbe stata il mio atteggiamento e quindi adesso lo dobbiamo mettere in pratica stiamo dialogando con i professori universitari che stanno realizzando il put per attivarlo e poi in questa fase io sono veramente coinvolto in una serie di attività che sono di relazionali emergenziali e relazionali emergenziali perché emergenze ce ne sono quotidianamente relazionali perché sono presente in tantissime manifestazioni in tantissimi incontri in cui ho solo il ruolo di sindaco e non riesco e quindi mi devo staccare anche dalla mia attività progettuale e essere costretto con piacere perché sicuramente è un onore però in qualche modo vengo distolto dalla mia attività principale e speriamo che si risolvano alcuni problemi restiamo ad Acireale dove parliamo di una realtà operante da tantissimo tempo nella città dei Centro Campanili ci riferiamo alla congregazione di figli di San Camillo San Camillo dell'Ellis che viene festeggiato vediamo San Camillo dell'Ellis il santo della carità di Acireale ha forti e indissolubili radici la comunità camigliana in occasione di festeggiamento rinnova l'impegno con la città e chiama raccolta fedeli e sino al prossimo 15 luglio darà vita alla missione camigliana interparrocchiale presentata stavano in conferenza stampa dal superiore generale dei camigliani Carlo Mangione affiancato da non Roberto Strano nella basilica cattedrale di Acireale vogliamo allora percorrere le strade di Acireale per andare a trovare i nostri fratelli ammalati per consolare per dire una parola di conforto ma anche per offrire la possibilità dei sacramenti della confessione dell'eucaristia anche la celebrazione delle messe nelle case degli ammalati la missione ha come scopo di raggiungere ogni persona tant'è vero che oltre agli ammalati a domicilio noi da domani fino a giovedì alle 20 e 30 in Gorsumberto davanti alla chiesa di San Rocco faremo delle catechesi proprio aperte a tutti ecco il motivo di questo di questo annuncio è proprio quello di raggiungere ecco quei fratelli che di solito non vengono in chiesa quei fratelli che a volte sono un poco pigri e ci sarà una squadra di 30 missionari che vengono da Roma che vengono da Viareggio da Lucca proprio per annunciare l'amore e la gioia del Signore il club dei festeggiamenti il 14 luglio con Santa Messe programmate ogni ora a partire dalle ore 6 del mattino nella chiesetta di San Camillo in via Galatea si rinnova l'impegno dei camigliani verso gli ammalati e i bisognosi un'opera quotidiana a sostegno degli ultimi il programma completo dei festeggiamenti in onore di San Camillo è disponibile sul sito della diocesi di Acireare la festa di San Camillo è una festa molto partecipata e sentita soprattutto anche dalla comunità della cattedrale che ha il privilegio di avere i camigliani da sempre nel territorio della parrocchia ecco perché abbiamo accolto insieme ad altri parroci della città l'invito rivolto dai camigliani di poter effettuare questa missione per gli ammalati e privilegiare così quella parte fondamentale di ogni comunità parrocchiale che è proprio l'ammalato e il sofferente per la sua peculiarità di non poter partecipare lui alla vita e alla comunità e la comunità che si sposta da lui bene adesso se piove prendiamo l'ombrello e ci ripreghiamo sappiamo già automaticamente cosa fare ma se fa caldo anziché lamentarci cosa possiamo fare qualche consiglio i consigli sono sempre gli stessi ed ormai tutti li conoscono bere tanto indossare abiti leggeri in fibre naturali consumare cibi preferibilmente a base di frutta e verdura ed uscire nelle ore in cui il sole non è alto sono pratiche che quando fa caldo sia giovani che meno giovani adottano per affrontare al meglio le giornate torride a tal proposito l'ASP di Catania ha attivato anche per quest'anno il piano operativo per la prevenzione degli effetti nocivi sulla salute umana dalle ondate di calore il piano prevede una costante attività di monitoraggio delle fasce più deboli della popolazione l'aggiornamento dell'anagrafe dei soggetti fragili dei distretti sanitari la diffusione delle informazioni utili ai cittadini nonché una serie di adempimenti per l'inquadramento epidemiologico oggi su Catania poco dopo le 11.30 il termometro segnava 30 gradi e questo secondo gli esperti è un orario in cui anziani e bambini dovrebbero evitare l'esposizione ad ondate di calore eppure i nonnini che frequentano la villa Pacini approfittando dei grandi alberi che donano frescura si godono l'ombra anche fino a mezzogiorno prima di rincasare per il pranzo lei tutte le mattine viene qui a prendere un po' di fresco esatto ma lei lo sa che è fuori orario alle 11 bisogna tornare a casa no basta ma mezzogiorno quindi lei poi a mezzogiorno leva le tene a mangiare a casa quindi approfitta diciamo della frescura questo si e poi perché pare che cerchi la fidanzata esatto ha tocchiato qualcuno adesso no no un po' di amore non solo lo tocco mano a mano chi lo sa se Dio vuole sicuramente se c'è fresco qualcuna si farà vedere esatto come deve essere insomma non mi voglio essere poi io sono una ragazza che è bello scuro bionda ma mi chiede di che età 40 anni 50 anni il sole le comincia a picchiare sulla testa lo sa che tra un po' bisogna tornare a casa che fa caldo certo sono un'oretta o a casa come fa lei a combattere il caldo come si combatte il caldo a bere acqua mangia frutta si frutta si si bevo e mangio frutta il cappellino sulla testa c'è la camicia è sbottonata ma sta sudando lei no sono bagnato ma si è rinfrescato io sempre come fa a combattere questo caldo quindi si rinfresca acqua ne beve riesce a berne due litri anche di più due litri no ma un litro e mezzo un litro me la bevo io vengo qua stai bello frisco tranquillo io sono mio tranquillo prima c'era la briscola in 5 adesso cosa c'è la scala 40 o Machiavelli scala 40 si combatte il caldo giocando a carte no si combatte niente con nota parola d'ordine rinfrescarsi continuamente soprattutto se si è costretti per lavoro o per piacere a rimanere nelle ore più calde fuori da ambienti ventilati o climatizzati questa fontanella per voi è fondamentale che frequentate la Villa Pasci no per me ma anche i petoristi che vengono qua che cosa è successo qualche giorno fa buttano le scine cose della frutta albino qua 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 vedi e ci può fare un buco questo lo vede un buco lo vede sì o no quindi un appello a chi viene qui e fruisce che lo faccia soltanto per bere e rinfrescarlo ma mantenersi il locale più bello più pulito amante pareggio lei vende frutta e verdura soprattutto la frutta va tanto col caldo si vende un pochettino si vende qual è il frutto che va di più il picocchio un po' di tutto quello che aiuta di più a combattere il caldo secondo lei qual è la ciliegia per adesso c'è la ciliegia che rinfresca da questo senso di fresche rinfrescata sape bello dagli anziani ai più piccini un occhio di riguardo poi per gli amici a quattro zampe i cuscinetti bruciano sull'asfalto rovente quindi anche per loro passeggiate al fresco e guizzi in improvvisate spa per cuccioli pelosi e va moltissimo avete visto il fai da te d'altra parte i catanesi sono il numero uno in cambio di questo genere restiamo a Catania e parliamo di festa dello sport vediamo cos'è dal paralimpico dal nuoto alla pallavolo passando per gli sport e questi il tec e vu il tiro con l'arco ma anche il calcio il canottaggio le armi sportive la caccia il golf l'handball e perché no la pesca sportiva la giornata siciliana dell'atleta che si è consumata oggi al teatro greco romano di Catania segna per la prima volta il riconoscimento della massima istituzione territoriale agli atleti che si sono particolarmente distinti in questo caso nel corso dell'anno solare 2017 nelle diverse discipline sportive un riconoscimento il primo dalla regione siciliana che assieme al CONI comitato regionale della Sicilia ha voluto istituire il premio alla giornata siciliana dell'atleta la cui prima edizione appunto come dicevamo si è svolta nel pomeriggio di oggi a Catania l'obiettivo è semplice esaltare il valore dello sport come strumento di formazione fisica e morale 241 gli sportivi e i rispettivi i presidenti delle varie federazioni che si sono avvicendati sul palco ricevendo il prestigioso riconoscimento consegnato direttamente dalle mani del governatore Nello Musumeci dal presidente regionale del CONI Sergio D'Antoni dall'assessore regionale al turismo sport e spettacolo Sandro Pappalardo purtroppo i dati di quanti giovani si approcciano si avvicinano allo sport sono deludenti sono molto bassi siamo tra le ultime regioni ed ecco perché il grande sforzo anche economico del governo della regione siciliana per essere accanto alle federazioni sportive con la finanziaria abbiamo incrementato di 500 mila euro quello che era il finanziamento che diamo con la legge 8 al CONI e altri 500 mila euro alla legge 31 quindi un impegno economico importante un milione di euro in più rispetto al 2017 tante sono le attività che stiamo svolgendo insieme al CONI quindi posso dire che la bellissima sinergia che nacque da subito tra regione siciliana e CONI sta dando dei frutti interessanti perché siamo molto vicini agli atleti e oggi vogliamo dimostrarlo in maniera ulteriore è un modo per diffondere la cultura sportiva noi abbiamo tanto bisogno di diffondere la cultura sportiva abbiamo salutato con piacere questa iniziativa della regione proprio perché ogni iniziativa che valorizza lo sport che diffonde la cultura sportiva serve proprio ad aumentare la pratica sportiva dobbiamo entrare nella testa di tante famiglie nella testa di tanti ragazzi e convincerli che fare sport non è soltanto star meglio fare sport significa socializzare imparare regole stare nella legalità Catania ha avuto sempre un'eccezionale tradizione sia nello sport divertisce siano lo sport di base lo sport svolge una funzione pedagogica salutistica di grande valenza sociale appunto per questo deve essere certamente sostenuto dalle istituzioni regionali comunali provinciali in questo bene gentili telespettatori a questo punto non mi resta che lasciarvi con la pubblicità ci vediamo subito dopo gentili telespettatori siamo alla fine del nostro appuntamento non ci sono notizie dell'ultima ora non mi resta che ringraziarvi come sempre se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito che vedete in sovrimpressione e non mi resta a questo punto che augurarvi buon fine settimana giornata tipicamente estiva quella di domenica 8 luglio su tutta la Sicilia il sole splenderà ovunque i mari saranno calmi temperature piuttosto alte soprattutto nella parte orientale dell'isola a Catania si andrà da una minima di 21 a una massima di 34 gradi il picco più alto si registrerà comunque ancora a Siracusa dove sono previsti 35 gradi di massima a la a a a a a a a a Grazie a tutti.